Parliamoci chiaro, tutti ti chiedono fiducia. Quelli che vogliono l'amicizia e non li vedi dalla terza media. Le previsioni del tempo che oggi davano sole. E le assicurazioni auto. Il festival delle promesse. Sapete di cosa mi fido io? Dei fatti. E a Conti Fatti per la Polizia Auto ho scelto Conte.it. Quando bisogno ci sono sempre. Risarciscono in fretta e un prezzo più basso io non l'ho trovato. Fate un preventivo. Conte è Conte. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Oggi non mi abbronzo.